Cari amici, ben arrivati in questa nuova puntata di Consigli Equisti. Ciao Roberto. Ciao Damiano. Allora, nuova puntata, insomma ormai è un'abitudine per i nostri amici vedere questi scontri virtuali tra attrezzatura, oggi parleremo di fotocamere, fotocamere dedicate in particolar modo allo street. Diciamo che più che fotocamere dedicate allo street sono fotocamere compatte, leggere, discrete. Per chi è il primo video che segue di Consigli Equisti sono appunto ragionamenti, riflessioni, approfondimenti basandosi su alcune variabili che andrebbero prese in considerazione quando si analizza un modello X rispetto a un modello Y e noi insomma abbiamo attribuito un voto diciamo e poi spieghiamo perché secondo noi quella fotocamera magari fa meglio o quell'aspetto di quella fotocamera magari fa meglio rispetto ad un altro. Quindi insomma ci si ragiona un pochino su e speriamo di riuscire a dare delle informazioni utili e concrete per chi deve investire, insomma spendere i propri soldi in un prodotto piuttosto che l'altro. Ricordiamo però Roberto prima di partire come lo diciamo sempre che il miglior investimento è su se stessi e quindi sulla crescita personale, quindi sulla formazione. Nel caso della fotografia, se sei insomma se ti interessa migliorare fotograficamente, noi abbiamo creato due corsi online dallo scatto, uno un corso dallo scatto alla stampa Fine Art e l'altro corso è Bianco e Nero Fine Art. Ti lasciamo il link in descrizione se vuoi approfondire di cosa si tratta, insomma magari possono esserci delle informazioni utili. Allora detto questo Roberto direi di intanto partire da quali sono i contendenti di questo scontro titanico perché sono ben quattro le fotocamere che andremo un po' a analizzare e a discutere. La Ricco GR3, un prodotto che ha tantissimi fan, così come anche la Fuji X100V, prodotto che abbiamo tra l'altro recensito, la Lumix LX100 Mark II, quindi la seconda generazione e la nuovissima, anche questo abbiamo da recente fatto una recensione, la nuova Fuji XE4. Allora Roberto direi partiamo a bomba sull'analisi un po' dei pesi, dimensioni perché in questo caso specifico sono fotocamere che molte le scelgono proprio per la loro compattezza, la loro trasportabilità. Vai Roberto. Sì, in effetti le macchine da street, anche se queste macchine non sono adatte solo allo street, ma alla fotografia di reportage, poi ne parleremo più avanti, una priorità è di essere nella street poco visibili. Quindi non è molto adatto una Nikon D6 per dire fast street, diciamo ti piazzi davanti a una persona con sto macchinone, magari con il 24-72-8 e dico questo qua mi spara, quindi per dire no, quindi macchina compatta e leggera. Abbiamo stilato una classifica di un confronto fra i volumi e i pesi e in effetti la più compatta, ma veramente compatta anche vista dal vivo e grande come un peccato di sigarette, è la Ricco GR3 e sono circa 250 grammi, sto leggendo la slide, per arrivare al massimo alla X100V che è 478 grammi, quindi sono quasi due atti in più e non è poco. Questo comunque è legato anche al volume, perché oltre al peso sono 10 cm di larghezza la Ricco e 13 cm la Fuji, quindi la Fuji è una macchina un po' più importante, ci si sente un po' più fotografi, questo stile della macchina molto laica, è una macchina un po' più ingombrante, ma comunque anche questa poco visibile. Le altre due contendenti, la Lumix, la Mar 2 e la X4 hanno volumetrie molto simili. Stessa cosa per quello che riguarda poi la larghezza, l'altezza e la profondità, quindi in questo caso la piccola, attascabile, microscopica, quasi fotocamera da spionaggio, Ricco ha un vantaggio veramente enorme rispetto alle altre tre contendenti. Ok Roberto, invece io parlo del mirino, perché i sistemi di mira, quindi il mirino e il display sono davvero importanti, anche nel genere street, reportage, eccetera. Allora sul mirino qui la situazione diventa un pochino più complicata, quantomeno non è proprio una lotta alla pari, perché? Perché sapete bene, magari qualcuno è più informato, che la Ricco fa della trasportabilità, della compattezza al suo punto di forza a sacrificio anche ad esempio del mirino, che non c'è nella Ricco. C'è un mirino opzionale, cioè si mette sulla slitta a caldo, diciamo un mirino che però non riporta le informazioni, cioè di fatto è solamente un mirino ottico con un riquadro appunto. Poi nel caso della Ricco il problema è marginale, cioè soprattutto per chi fa street, magari utilizza l'iperfocale, non è un grosso problema, serve solo a capire insomma come inquadrare. Quindi francamente è un problema diciamo superabile, poi perché magari nello street a volte non portare la macchina all'occhio è un punto di forza, piuttosto che un punto di debolezza, perché dà meno l'idea che tu stai facendo la classica foto, quindi invece la usi stile smartphone, stile compatta, insomma vieni preso un pochino meno sul serio e sei meno visibile. Comunque è ovvio che alla Ricco abbiamo dovuto dare un 4, non è uno 0 perché sarebbe 0 visto che non ce l'ha il mirino, però ripeto abbiamo questo mirino esterno opzionale che comunque grazie proprio alla funzione iperfocale della Ricco, poi Roberto vi spiegheremo meglio ai nostri amici qual è la funzione di questa fotocamera, comunque potete utilizzarla. Fuji X100V invece becca un bel 9, prima di tutto perché il mirino elettronico è lo stesso, ottico elettronico, lo stesso dell'X-Pro3 che è stato uno dei punti di forza di questa fotocamera a carattere professionale. È un mirino ottico molto luminoso, molto grande e veramente molto molto piacevole, ma la serie X100V ha questo sistema ibrido per cui con una levetta potete passare al mirino elettronico. Mirino elettronico da 3.6 milioni, quindi un mirino comunque ottimo come definizione, non è il top che c'è sul mercato ma comunque molto molto buono. Fuji ha lavorato anche tanto sulle lintine che sono davanti al display per migliorare la naturalezza del mirino e ha anche lavorato molto sul gamut, quindi sulla riproduzione delle sfumature diciamo colore, insomma del range dinamico riproducibile dal display. Quindi insomma è un mirino molto molto piacevole, si guarda molto bene e che è davvero molto agevole nell'utilizzo. La Lumix LX100 Mar 2 ha un mirino incorporato abbastanza piacevole nell'utilizzo, non è il punto di forza di questa fotocamera che comunque rimane come concetto una fotocamera compatta, quindi più diciamo da display, però è un mirino comunque con una buona risoluzione, 2.6 milioni di pixel, vado a memoria, ma insomma un mirino con una buona risoluzione, tutto sommato si vede bene. Diciamo il look è un pochino digitale, ecco se dobbiamo proprio trovare una critica a questo mirino di Panasonic che è appena appena digitale, non è così naturale come può essere quello ad esempio in casa Fuji, ma comunque anche il fattore di ingrandimento è piuttosto buono, perché siamo a 0.7 per, quindi un mirino comunque fruibile, ripetiamo, è concepito per essere utilizzato quando ad esempio c'è molto sole e per cui torna più comodo utilizzare un mirino. La Fuji X-E4 ha un mirino non così di qualità come la Fuji X100V, perché parliamo di 2.36 milioni di pixel, esattamente come la Lumix LX102, quindi la definizione tra la Lumix e la Fuji X-E4 è stessa come mirino, così come il fattore di ingrandimento, sì 0.62 è un pochino più piccolo rispetto alla Lumix, però sostanzialmente è un mirino utilizzabile tanto quanto quello della Lumix. Forse è un pochino più naturale, devo dire che i mirini di Fuji sono un pizzichino più naturali rispetto a quelli di Panasonic, ma comunque si utilizzano tranquillamente. Quindi da qui i voti, lo ripetiamo, 4 per la Ricoh, 9 per la Fuji, quindi questo Fuji X100V che stacca tutta la concorrenza, e un 7, un 7 per Lumix e per Fuji X-E4. Parliamo adesso degli LCD, allora queste quattro macchine si accumulano per la superficie, sono tutti dei tre pollici, quindi almeno su questo fattore sono identiche, però cambiano tanto, direi, le altre caratteristiche. Prima di tutto la risoluzione, allora la Ricoh ha un 7,24,80 e circa un megapixel, un mega e due, però tenendo conto che non ha il mirino, è vero che hanno tenuto la macchina molto compatta, però per un utilizzo a livello di street non avere un LCD almeno articolato verticalmente è una cosa non molto congeniale, perché è vero, non ti fai vedere, però se la macchina la tieni all'altezza dell'ombelico fai fatica, se tu avessi l'LCD che è un po' articolato scatti molto meglio. È vero che ci sono le app per cellulare che puoi scattare tramite il cellulare connesso in Bluetooth o in wireless con la Ricoh in questo caso, però un display articolato sarebbe stato gradito su questo tipo di macchina. Comunque è touch, come praticamente tutte le altre, ma per questo abbiamo dato un voto di sufficienza valutando quelle che sono le caratteristiche dell'LCD. La Fuji X100B invece ha un display da un Mega 6 molto risoluto, è articolato a pantografo verticalmente ed è touch. Quindi è un bel mirino, si vede anche bene, con forte luminosità ambientale, l'hanno migliorato perché alle volte i dati di Targa non li identificano perfettamente quello che è poi la realtà. Nel senso, quando tu trovi un LCD o un mirino che viene dichiarato 3 Mega, non sono tutti uguali 3 Mega, devi provarlo. In effetti l'X100B ha un LCD che è molto fruibile anche in forte luce ambiente, per questo abbiamo valutato 8 come votazione per l'X100B. La Lumix LX100 Mark II ha un LCD meno risoluto rispetto al X100B, siamo a livello della Ricco GR3 e non è articolato ed è touch. Anche qui, quando abbiamo assistito alla presentazione dell'ultima Lumix, la Mark II, la versione aggiornata, ci siamo un po' tutti chiesti come mai Panasonic non ha messo il display articolato, tenendo conto anche della predisposizione della macchina per fare anche video, come parleremo più avanti. E questa cosa addirittura non è stata neanche assolutamente ascoltata, è lasciato un display fisso che comunque non è assolutamente comodo, specialmente per questa tipologia di macchina, per come è pensata. L'X4, scusate per questo abbiamo dato la sufficienza, 6. L'X4 ha un display che è più o meno a livello dell'X100V, è articolato, non ha la stessa risoluzione ed è per questo motivo che abbiamo dato un voto in meno, ma anche lui, anche questo LCD della Fuji X4 è molto fruibile anch'esso in forte luce ambiente, quindi diciamo che si merita un po' più della sufficienza rispetto alla Ricco e alla Lumix proprio per la sua articolazione, che è una cosa sempre molto comoda. Per quel tipo di fotografia parliamo di street e di reportage su cui è basato questo articolo. Arriviamo adesso a parlare della qualità d'immagine, fattore ovviamente importantissimo, così come l'autofocus di cui ci parlerà Roberto fra poco. Qualità d'immagine, qualità d'immagine vi diciamo subito ottima per tutte e quattro le fotocamere, nonostante montino sensori molto diversi, sia come definizione, nel caso della Fuji la definizione è la stessa, ma la vediamo fra poco, ma anche come dimensione del sensore, perché ricordiamo che la Lumix e l'X100 seconda serie monta un micro 4 terzi in versione un po' special, adesso vi spieghiamo, mentre tutte le altre fotocamere sono sensori APS-C. Allora, per quanto riguarda la Ricco, la Ricco ha un sensore APS-C da 24 milioni di pixel che produce delle immagini veramente, veramente belle, resa cromatica favolosa, almeno a me personalmente mi piace veramente tanto, così come ha dei profili all'interno della fotocamera sul bianco e nero fantastici, quindi se siete fotografi che amano anche l'idea di poter scattare magari in JPEG, avere già dei bianco e neri molto particolari, insomma belli, insomma da look in alcuni casi anche analogico, la Ricco può essere un ottimo prodotto. Qualità d'immagine ottima sia come gamma dinamica, ottima anche come resa le alte sensibilità, quindi la Ricco GR3 siamo sicuri che non vi deluderà da questo punto di vista e c'è anche una bella tridimensionalità, questo grazie anche all'ottica, un 28 mm 2.8 che è stato, dicono gli ingegneri della Ricco, riprogettato con questa nuova fotocamera e dicono che sia uno dei migliori 28 mm se non il migliore presente sul mercato e noi abbiamo avuto modo di provarla per un po' di tempo, non abbiamo mai fatto una recensione ma ci insomma riproponiamo di farla e devo dire che confermiamo l'ottima percezione proprio di questo 28 mm che ha anche una scarsa distorsione. Per quanto riguarda invece la FUJI X100V è un prodotto che diciamo è in linea come qualità d'immagine con la FUJI X-T3 e FUJI X-T4, quindi in sostanza quelle migliori fotocamere nel mondo FUJI APS-C. Quindi un sensore da 26 milioni di pixel come definizione e sempre un sensore X-Trans di ultima generazione, quindi un retroilluminato che garantisce, sapete, una performance all'alta sensibilità davvero molto buona. Quindi alti ISO molto buoni, al pari del full frame no, ma molto vicini, diciamo quantificabili in due terzi di stop, peggio ecco, potremmo riassumere in questo modo rispetto alle migliori full frame ovviamente. Definizione a nostro parere buona, ma che francamente non c'è nulla di differenza rispetto al 24 minuti di pixel di Ricoh, 14 bit, questo è importante così come la Ricoh, come profondità, colore e quindi diciamo è più, il file è anche più, accetta meglio eventuali strapazzamenti in post-produzione e ottica 35 mm F2 fissa, perché ricordiamo che non può essere cambiata, invece riprogettata e dobbiamo dire che rispetto alla vecchia serie, all'X100F, per darvi un'idea, la lente effettivamente lavora molto bene, soprattutto alle distanze ravvicinate. Quindi, mentre nel 35 mm F2, presente ad esempio sulla X100F, a distanze ravvicinate diventava un pochino morbido, in questo caso è molto più tagliente, molto più graffiante. Secondo noi, insomma, il salto di qualità c'è stato, in effetti rispetto alla vecchia serie, che comunque rimane un'ottima lente, il vecchio 35 mm F2. In realtà parliamo di un 23 mm, ricordatevi sempre che dovete poi moltiplicarlo per 1.5, così stessa cosa per la Ricoh, dovete moltiplicare come fattore di crop per 1.5. E arriviamo adesso a parlare della Lumix LX102. Vi ho detto che è l'unica a non avere un formato APS-C, è un formato Mico 4 terzi special. Perché special? Perché in realtà Panasonic fece qualcosa di veramente geniale. il cosiddetto sensore multiformato, cioè la Panasonic ha una ghiera proprio sul barilotto che permette di variare da 3.2, 1.1, 4 terzi e così via, senza andare a croppare troppo violentemente. Perché? Perché il sensore è fatto a una sorta di X, insomma non è proprio un classico rettangolo come tutti i sensori. Questo permette di comunque mantenere piuttosto alta la definizione nativa del sensore stesso. Sensore che ha una definizione decisamente più bassa rispetto alla concorrenza, 17 milioni di pixel, il che è un vantaggio su un sensore Mico 4 terzi, significa una buona resa alle alte sensibilità, anzi una ottima resa alle alte sensibilità, non al pari, francamente, della concorrenza, ma neanche così lontano. Quindi non fatevi spaventare dal rapporto del sensore. Monta però una lente zoom, quindi è l'unica da avere una lente zoom 24-75, vi do l'equivalente full frame un po' per intenderci, 1.7, 2.8, attenzione, attenzione, è marcato Leica. E vi diciamo che è veramente una lente fantastica, è uno zoom strepitoso, che se lo facessero intercambiabile sulle fotocamere Mico 4 terzi, sarebbe veramente una roba da urlo. Quindi veramente una grande lente, un'ottima performance anche a livello macro, quindi insomma uno schema ottico particolare, e sicuramente è uno dei punti di forza di questa fotocamera. E comunque offre un'ottima qualità d'immagine. Anche in questo caso ci sono diversi profili particolari. È fantastico il profile L monochrome, che ti dà un bianco e nero bellissimo. Ne abbiamo già parlato quando affrontammo nei nostri video la GX9 e la G9, che hanno entrambe lo stesso profilo colore, insomma un profilo pellicola in questo caso bianco e nero. Praticamente il bianco e nero è perfetto. Secondo noi è uno dei migliori che sono presenti sulle fotocamere. Andiamo poi a parlare della Fuji X-E4. Fuji X-E4 monta lo stesso sensore della X-T4, quindi sostanzialmente il top che attualmente Fuji ha a disposizione. Stessa definizione, quindi tutto praticamente identico, in sostanza è come avere un X-T4. Quindi vuol dire avere tanta roba, come gamma dinamica, come risalte sensibilità, come profili pellicola. Sapete che Fuji è famosa per i profili pellicola, anche in questo caso, se siete amanti del JPEG, vi dobbiamo dire che tutte le fotocamere sfornano degli ottimi JPEG, tutti quanti, compreso la Lumix. Ovviamente i sistemi, i settaggi sono diversi, Fuji ha sistemi particolari per la tenuta in gamma delle alte luci chiamata DR, Panasonic ha un altro sistema, Ricco ha un altro sistema, ma insomma tutti quanti comunque producono ottimi JPEG. Quindi se siete amanti della foto, faccio lo scatto, la condivido, non devo post-produrre, vi troverete veramente bene. Ricordiamo, e poi finisco, che anche la Fuji X-T4, come l'X100V, è un 14-bit, il che significa file più malleabile, più strapazzabile, cosa che non è la stessa cosa per la Lumix, che si ferma a 12-bit. Detto questo Roberto, ti passo la parola. Adesso affrontiamo un altro capitolo molto importante, un parametro di scelta, molto importante, per quando si deve acquistare una macchina fotografica, una mirrorless. Si parla dell'autofocus, quando esce una macchina nuova, o quando si discute nei circoli fotografici, si parla di qualità d'immagine, ma tanto, forse ancora di più di autofocus. L'autofocus perché deve essere reattivo, veloce, rapido, lavorare a bassissimi livelli di luminosità, e quindi è un parametro che influenza tantissimo. Poi adesso la moda imperante è l'autofocus riconoscimento visi e occhi. Andiamo a vedere adesso come si comportano queste macchine e andiamo a valutare le loro prestazioni. Allora, la Ricco GR3 è la prima Ricco di questa famiglia ad avere un autofocus ibrido, vale a dire, i precedenti Ricco GR avevano un autofocus solo a contrasto, adesso finalmente devo dire hanno messo anche l'autofocus a fase, quindi è un autofocus che agisce su questi due parametri, quindi ha la precisione, perché l'autofocus a contrasto è estremamente preciso, e la velocità dell'autofocus a fase. Resta il fatto comunque che in effetti la macchina è molto scattante, molto veloce, però non ha quella prerogativa che magari certe clientele, certa utenza cerca, del riconoscimento occhi, ha riconoscimento visi, molto affidabile, ma non è diciamo un autofocus di più evoluti, ha da parte sua una grandissima velocità e reattività, specialmente per quello che riguarda i pulsanti di scatto. E per chi fa street, questa è una cosa basilare, cioè quando si piglia il pulsante di scatto, la macchina parte e fa la foto. E' anche vero che si può utilizzare una sorta di pre-focus, quindi dire alla macchina di lavorare in quella certa profondità di campo, di range, di messa a fuoco, magari si imposta un pre-focus da un metro a dieci metri, si scatta senza pensare all'autofocus, come si faceva una volta, d'altronde, ma come fanno ancora in tanti, compreso Damiano che si sta ascoltando, e non si deve pensare all'autofocus, e questo dà una grande reattività, sei molto sul pezzo, sei dentro alla scena. Ha una funzione in più, diciamo come orpello del discorso, ha uno switch in cui si può impostare una funzionalità macro da 6-12 cm, quindi una distanza estremamente ravvicinata che grazie anche all'obiettivo equivalente a 28, però di ampia apertura, può dare la possibilità di fare delle foto un po' particolari, sfruttando l'effetto sfocato, l'effetto pop-up del soggetto in primo piano. Passiamo alla Fusi, ah, dimenticavo il voto, abbiamo dato un 7, proprio considerando tutti questi fattori. Passiamo alla Fusi X100V, la Fusi X100V ha lo stesso sensore dell'XT4, dell'XS10, della XE4 di cui parlerò alla fine e quindi anche lo stesso sistema autofocus. Il balzo è stato abbastanza netto rispetto alle prime X100, quindi un autofocus ibrido con 425 aree, abbiamo anche joystick che ci permette di posizionarlo come meglio vogliamo, ha riconoscimento viso, occhi, che non sarà il super top come certe macchine, però è affidabile, è abbastanza affidabile e quindi un autofocus comunque che dà sicurezza. Anche l'X100V ha la possibilità di fissare un campo di messa a fuoco per limitare il range, per non far lavorare l'obiettivo oltre una certa distanza, quindi rendere ancora più reattivo la messa a fuoco. C'è da dire che accoppiata con il 35 equivalente F2, la macchina è molto, molto scattante e vi fa sentire molto sul pezzo. Leggo anche il discorso al mirino opto elettronico, sfruttando la velocità di messa a fuoco e la rapidità anche con cui risponde il pulsante di scatto e la visione nel mirino ottico simile galileliano, anche in questo caso siete molto dentro la scena. Per questo abbiamo dato un 8 perché in effetti l'autofocus dell'X100V siamo a livelli praticamente professionali. La Lumix come tutte le Panasonic non ne vuol sapere per ora di fare un autofocus ibrido ma utilizzo una messa a fuoco a contrasto. Devo dire che comunque è molto rapida perché la lettura, il tempo di lettura fa tantissime letture al secondo, più di 400 letture, fa sì che l'ottica sia sempre pronta allo scatto, che l'autofocus sia molto reattivo, non ha tutte le funzionalità che può avere una messa a fuoco accoppiata a contrasto fase però nell'utilizzo pratico devo dire la verità noi l'abbiamo provata la differenza non si sente un po' come anche le sorelle maggiori le mirrorless più importanti S1 S1R eccetera che hanno un autofocus devo dire molto reattivo. Poi l'obiettivo dato che è stato ottimizzato per la macchina dovete tener conto di questo quando si costruisce una macchina tra virgolette compatta l'ottica è accoppiata perfettamente in tutti i meccanismi quindi si sfrutta al 100% le prestazioni in questo caso dell'autofocus inoltre come diceva Damiano è un'ottica molto luminosa e più luce entra meno l'autofocus fa fatica per questo abbiamo dato un voto leggermente inferiore 7 rispetto all'X100V perché le prestazioni sono leggermente inferiori l'X4 l'ultima abbiamo dato lo stesso voto dell'X100V perché in pratica l'autofocus è il medesimo una piccola nota ultimamente Fuji differenzia le macchine non tanto per l'argo inteso sensore e autofocus perché nell'ultima uscita X100V X-T4 X-E4 X-S10 il cuore è lo stesso le differenzia per la tipologia di macchina difatti noi abbiamo messo questa X-E4 come tipologia di macchina in questa categoria di macchine adatte allo street può cambiare il limite leggermente ma questa è una scelta proprio progettuale a livello di firmware la sensibilità dell'autofocus però non più di tanto quindi le Fuji a livello di sensore e autofocus sono tutti uguali e per questo abbiamo dato lo stesso voto della X100V anche l'X4 vale a dire un 8 io invece vi parlo di funzioni e tecnologie partiamo dalla Ricco GR3 allora la Ricco GR3 è una fotocamera che è abbastanza buona come funzione intanto è stabilizzata non è lo stabilizzatore di ultimissima generazione che si vede oggi sulle fotocamera comunque fa il suo discreto lavoro circa 4 stop 3 stop assolutamente reali per quanto riguarda il comparto fotografico il time lapse ovviamente è molto interessante anche una memoria interna di 2 gigabyte quindi volendo insomma si può anche utilizzare questa memoria e poi interessante la tecnologia che sposta leggermente il sensore per cercare di ridurre l'effetto moire insomma sugli elementi che si ripetono quindi i falsi colori che si possono creare altra cosa interessante un filtro ND e come raffica ha 4 fotogrammi al secondo la Fuji X100V non è una fotocamera ipertecnologica ma comunque ha le sue peculiarità prima di tutto la tecnologia DR che riteniamo sia io che Roberto essere la migliore tecnologia per quanto riguarda la tenuta in gamma delle alte luci e delle ombre già nel JPEG all'HDR al filtro ND incorporato un filtro fisico quindi non digitale ha il Syncro Flash che permette di sincronizzare quasi su tutti i tempi in Real Flash Real High Speed quindi in sostanza sapete quando andate sull'alta velocità del flash la potenza del flash si riduce al minimo in questo caso invece potete lavorare a piena potenza pur contando su tempi di scatto molto rapidi ben oltre i classici un duecentesimo di secondo duecentocinquantesimo tipici delle fotocamere con otturatore a tendina e non centrale come l'X100V ha 11 fotogrammi al secondo permette il focus bracketing quindi se uno vuole amplificare con il focus stacking la profondità di campo può farlo c'è questa funzione quindi è una fotocamera che diciamo bada abbastanza al sodo per quanto riguarda la Lumix LX100 a nostro giudizio la fotocamera è un pochino più evoluta da questo punto di vista infatti abbiamo dato 7 alla Ricoh 6 alla Fox X100V che è un pochino più essenziale un pochino più pura tra virgolette e un 8 alla Lumix perché insomma ha veramente tante funzioni il 4K che può estrapolare appunto un formato dalle riprese 4K il multiformato di cui parlavamo prima il focus bracketing il post focus ha 11 fotogrammi al secondo è stabilizzata sull'ottica quindi non sul sensore ma va benissimo per questo tipo di fotocamera insomma è molto evoluta ha un livello di elaborazione anche del JPEG in camera del RAW per farlo diventare JPEG molto evoluto in camera insomma è un piccolo coltellino svizzo svizzero stile un po' Olympus la Fuji X4 è quella un pochino più sobria da questo punto di vista abbiamo dato un 6 un po' come l'X100V diciamo che a differenza dell'X100V gli manca l'otturatore centrale quindi che a nostro giudizio è un plus davvero importante per chi ama fotografare con il flash anche la frequenza è più bassa siamo 8 fotogrammi per secondo in meccanico e 20 fotogrammi per secondo in modalità elettrico ha l'HDR insomma diciamo le classiche funzioni in sostanza abbiamo dato un 6 perché ha le funzioni che ormai praticamente tutte le fotocamere hanno quindi morale della favola se volete una fotocamera un pochino più pura un pochino più autentica tra i virgolette probabilmente l'X100V è quella che più vi accontenterà se volete una fotocamera un po' più tecnologica probabilmente la Lumix e l'X100 Mark II o seconda serie vi darà più soddisfazione parliamo adesso della versatilità della macchina è vero che il discorso che facciamo all'articolo di oggi è indirizzato sulle macchine adatte alla street però se uno acquista una macchina che va bene per la street anche se riesce a fare qualcos'altro non guasta quindi la versatilità così intendiamo è l'adattabilità del mezzo in questo caso della macchina della macchina fotografica a diverse situazioni che può essere la street la fotografia di viaggio la fotografia sportiva la caccia fotografica è chiaro con queste macchine non si può almeno tranne che con l'X4 non si può fare caccia fotografica per questo parlando subito del GR3 è la macchina pura per street ci puoi far di tutto perché con un 28 conosciamo fotografi che con un 28 ci hanno fatto 15 anni di carriera ma fotografi di alto livello quindi volendo puoi fare ritratto puoi fare street però è chiaro che se un commettente ti chiede fa meno still life non è che puoi andare con la Ricco GR3 bellissima macchina saresti un po' limitato quindi abbiamo dato un 5 ma non tanto perché non è adatta alla street anzi probabilmente è la più adatta alla street proprio per la sua compattezza ma per la sua non versatilità passando all'X100V è un po' più versatile proprio perché la vediamo più adatta anche a un utilizzo non solo legato alla street ma un utilizzo per il reportage e anche la foto di viaggio e non forse altro anche per il flash integrato che alle volte può servire per dare quel lampo di schiarita per quel mirino che è sempre una cosa molto comoda la Ricco non ha il mirino la Fusi X100V ce l'ha ha l'LCD che è ribaltabile e anche questo per essere una cosa utile nella foto di famiglia quando guarda in seguito il figlioletto che scappa la figlioletta è la macchina un po' più eclettica certo non ci potete fare qualsiasi cosa anche se Dambiano ci ha fatto dei servizi interi con l'X100V però la sufficienza se la merita ampiamente la Lumix è liecente invece essendo dotata già di partenza di uno zoom che rende la macchina più adatta per svariate situazioni quindi oltre alla street adattissima alla fotografia di viaggio perché avere uno zoom con la qualità dell'Aica montato su questa macchina con le luminosità con lo stabilizzatore ci permette di cavarci tante soddisfazioni e portare a casa degli scatti anche nella fotografia di viaggio ma anche nella foto di famiglia quindi una macchina molto eclettica e per questo abbiamo dato un 7 l'X4 partendo dal presupposto che è la stessa qualità d'immagine della X100V abbiamo dato un 8 perché essendo una macchina con ottiche intercambiabili certo non ci potrai fare magari fotografia sportiva o caccia fotografiche di alto livello però installando le ottiche e il sistema Fuji sia le originali sia cominciano a vedersi i primi universali tipi Viltrox che amplia tantissimo la versatilità della macchina non potevamo fare altro che riconoscere un 8 rispetto alle altre che sono comunque buone macchine ci potete fare di tutto ma non ha dei limiti come versatilità bene parliamo adesso della qualità costruttiva qualità costruttiva che vi diciamo subito è abbastanza buona in tutti e quattro i modelli vedete i voti la Ricco è quella che insomma abbiamo dato un voto più basso 6 perché? perché purtroppo non è tropicalizzata e perché seppur hanno migliorato moltissimo rispetto al modello precedente la Ricco GR2 che è ancora un ottimo modello insomma un ottimo fotocamera ma soffriva un po' di polvere che entrava dall'obiettivo e si depositava sul sensore rendendo un po' spiacevole la cosa fino in alcuni casi peggiori a doverla portare in assistenza per farla pulire la Ricco GR3 è migliorata molto da questo punto di vista ma ancora c'è stato detto insomma che qualche problema ancora può capitare molto molto meno ma insomma può capitare e comunque la mancanza di tropicalizzazione un po' ci dispiace è vero che è una fotocamera che francamente la copri con una mano se dovesse piovere insomma fanno scatto al volo non è un dramma per cui insomma di certo non è che non comprerei la Ricco GR3 per questo motivo secondo noi è un aspetto insomma un po' marginale però è giusto riconoscere il fatto che insomma non sia tropicalizzata la Fuji X100V invece è una fotocamera decisamente di elevata qualità costruttiva non soltanto come materiali che comunque ti danno la sensazione di essere un prodotto abbastanza premium cioè una compatta abbastanza premium non raggiunge ovviamente la Leica Q ma perché viaggiamo a prezzi ben diversi rispetto a queste ma comunque la sensazione è piuttosto piacevole è in lega di magnesio e le lighiere gran parte delle lighiere sono in metallo comunque insomma hanno sono zigrinate insomma hanno delle finiture delle attenzioni che ti fanno capire che il costruttore insomma ha voluto fare le cose per benino curando anche molto l'estetica che sia io che Roberto riteniamo sia un fattore davvero importante cioè il piacere estetico di un prodotto non è poi così secondario come molti magari credono è un prodotto quindi ben fatto ed è tropicalizzato bisogna utilizzare un filtro davanti alla lente per chiudere l'unica fessura da cui si muove un pochino la lente frontale ma comunque è un prodotto tropicalizzato quindi questo è un grande appunto avvantaggio rispetto anche ai modelli precedenti l'X100F e così via per quanto riguarda la Lumix ILX102 ora è costruita molto bene cioè è davvero un bel prodotto e questo avete visto insomma comporta anche un peso non proprio piuma assolutamente trasportabile piacevolissimo ma di certo non è quell'oggetto cheap che hai quando lo prendi in mano tutt'altro è un prodotto che ti dà l'idea proprio di essere stato fatto bene purtroppo e questo ripeto purtroppo non è tropicalizzato ci dispiace questo aspetto perché secondo noi la Lumix LX100 è un prodotto che si presta anche a essere portata in montagna tranquillamente perché è piccolo la metti nello zaino un taschino insomma anche attaccato alla tracolla insomma alla spalla dello zaino e la mancanza di tropicalizzazione è un po' insomma una carenza anche in questo caso è vero che si utilizza tranquillamente con una mano ci metti l'altra mano che la protegge insomma non è una tragedia però è una piccola mancanza e per questo l'abbiamo penalizzata dando un set altrimenti sarebbe stato probabilmente un voto decisamente più alto per quanto riguarda la Fuji X4 è un prodotto fatto bene tutto in metallo tutto in lega di magnesio è un prodotto che utilizzandolo insomma andate a vedere la ricezione Roberto ne ha parlato in maniera assolutamente dettagliata è un prodotto che ti dà una bella sensazione in mano insomma un prodotto fatto bene purtroppo non è tropicalizzato e questo chiaramente ha penalizzato il voto però in tutte le fotocamere la qualità costruttiva percepita è piuttosto buona la RICO è quella che sembra un pochino più plasticosa anche se in realtà non è così perché comunque costruita in lega di magnesio insomma la qualità è buona però è quella che ti sembra un pochino più cheap rispetto alla concorrenza ma è solo un'impressione perché poi in realtà è un prodotto che si presta anche a essere messo in tasca che è anche abbastanza maltrattato senza soffrire troppo da questo tipo di utilizzo adesso Roberto passa a te la parola per parlare di autonomia di batteria e connessioni vai autonomia batteria cioè veramente noi faremo una raccolta di firme perché cioè costruttori fate più birra le macchine cioè siamo stati anche di larmi bracini corti bracini corti ma noi abbiamo dato un voto anche abbastanza largo in effetti perché abbiamo dato 5 la RICO che è dichiarata 200 scatti ma sappiamo che ne fa anche meno quindi veramente non dico che è quasi un rullino ma ci manca poco e le altre tre macchine si viaggia dai 300 scatti scarsini della Lumix arrivare ai 400 450 delle Fuji che non sono chissà che cosa è vero uno spegne la macchina attiva i vari risparmi energetici non sta lì a guardarsi le foto 200.000 volte eccetera però in effetti le batterie sono veramente scarsissime è vero che la RICO è piccola quindi più di tanto cioè la batteria non può essere non è potente attaccare la batteria da cambio con due cavi di prolunga però 200 scatti di autonomia sono veramente pochi e c'è il rischio che alle volte puoi anche perdere il momento nel senso tu non stai attento magari c'è il lampeggino che ti dice batteria scarica per fare click la tua foto della vita non la fai e magari sei a Venezia e la RICO finisce nel canale quindi per favore aumentate questa autonomia inventate qualcosa di nuovo costruttori vi preghiamo faremo un referendum so già che vinciamo parliamo di connessioni batteria è stato due chiacchiere le connessioni le connessioni sono importanti allora a noi ci va bene che ci sia almeno l'USB è meglio l'USB-C che ci sia una micro HDMI anche se sarebbe meglio un HDMI più grande però per questo tipo di macchina va bene una micro HDMI va bene che ci esce il microfono chiudiamo un po' un occhio per le cuffie però per dire vado un po' così la spicciolata la Lumix LX100 Mark II che è una macchina estremamente eclettica abbiamo già trovato il difettino con le tropicalizzate è vero si può coprire però insomma non ha il display articolato una macchina che ha delle belle buone come vedremo poi prestazioni video non ha il microfono questo è cioè non puoi utilizzare la macchina con microfono integrato cioè anche questa se sei a Venezia la tiri nel canale quindi questa è una grossa mancanza in effetti è quella che ha preso quasi meno di tutte perché 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 la Ricco di connessioni non ne ha la Ricco ha un USB-C che serve anche per la ricarica punto poi ha il Bluetooth il wireless ha la schedina o HS1 come tutte e quattro però proprio in minimi termini ha solo una presa quindi abbiamo dato un 5 così insomma per incoraggiamento è un po' come quando si andava a scuola dai non ti do 3 perché se no rimediare un casino ti do il 5 magari recupererai le due Fuji hanno entrambe l'USB-C quindi l'ultimo attacco più veloce più rapido che permette la ricarica della macchina anche con la macchina accesa hanno HDMC hanno il microfono manca la cuffia però come mai sapete nelle nostre recensioni c'è un adattatore fornito per collegare la cuffia alla presa USB-C è chiaro che se mettete la cuffia non potete utilizzare la ricarica con un power bank però vabbè ok ci sta e quindi sono più complete per questo abbiamo dato un 7 mi soffermo un attimino un altro particolare ho parlato delle batterie che non sono molto efficaci voglio parlare anche delle app di connessione dei cellulari smartphone ipad tutto quello che volete alle macchine perché fa parte delle connessioni dovete costruttori cercare di implementarli in maniera più consistente cioè io non devo perdere mezz'ora per connettere il cellulare lo smartphone chiamatelo come volete alla macchina oppure farlo però con degli accrocchi particolari devono essere molto più smart e molto più veloci ci sono case costruttrici qui non presenti che devo dire che la Panasonic forse tra le quattro è quella che funziona un po' meglio ma non è un gran che e ti passa la voglia di farlo in parole povere quindi anche qua io è un invito che faccio ai costruttori tanto non ci vuol tanto per implementare delle app datevi un po' da fare sotto questo aspetto adesso passo la palla al mio socio amico collega di sventura Damiano che vi parla dell'ergonomia allora sì qui l'ergonomia Roberto il tema è un pochino delicato perché parliamo di fotocamere che sono state pensate per essere piccole e a volte le piccole dimensioni non vanno tanto d'accordo con la comodità insomma con l'ergonomia eccetera perché è normale d'altro canto i costruttori devono un po' scegliere a cosa dare priorità sicuramente tra tutte queste vedete che la RICO è quella che anche in questo caso prende il voto più basso qui qualcuno può non essere d'accordo perché uno dice ma se io faccio street in realtà è comodissima perché è pensata per essere utilizzata solo con una mano ed è questo è vero ed è il motivo per cui abbiamo dato sei cioè effettivamente la RICO con una mano sola forse è la più comoda delle altre quasi tutti i comandi sono abbastanza raggiungibili sono abbastanza comodi e si utilizza bene però oggettivamente rispetto alle altre che hanno il joystick che hanno magari addirittura un mirino o hanno dei tasti di personalizzazione eccetera è quella un pochino più spartana dipende da che tipo di fotografia e che tipo di utilizzo ne fate poi della RICO però è chiaro che la RICO ha dato e secondo me anche giustamente prevalenza priorità alla compattezza alla tascabilità che ricordiamoci che è l'unica vera fotocamera tascabile non dimentichiamoci questo fattore che è veramente un fattore chiave per quanto riguarda l'X100V l'X100V è un prodotto ottimo da puntista dell'ergonomia è un prodotto che è molto vicino a una Leica M6 un prodotto delle dimensioni giuste mi viene da dire è un prodotto che ha il joystick ha pochi tasti ma sono quelli giusti e il poco tasto non vuol dire sacrificio vuol dire che c'è quello che serve e non c'è troppa roba che poi non sai dove appoggiare il pollice eccetera è veramente ben fatto è un prodotto che merita completamente lotto perché Fuji a differenza di altri costruttori forse insieme a Leica Fuji e Leica stanno lavorando molto da questo punto di vista stanno rendendo più essenziali i corpi macchina pur non sacrificando la praticità l'usabilità e ovviamente anche l'ergonomia c'è un po' più di grip rispetto alle fotocamere diciamo dell'X100 insomma è un prodotto che dal nostro punto di vista merita l'otto la Panasonic Lumix e l'X100 seconda serie è un pochino più piccolina quindi di conseguenza l'impugnatura è un pochino più difficoltosa il mignolo è completamente fuori insomma è ovvio che i miracoli non si possono fare quando fai una fotocamera molto piccola però è una fotocamera che merita il set perché comunque ha diversi tasti sono posizionati bene tutto sommato anche la ghiera anteriore per regolare ad esempio il multiformato è abbastanza comoda non è comodissima è abbastanza comoda insomma è un prodotto che come sempre Panasonic le fotocamere sa farle nonostante non abbia un'esperienza decennale o pluridecennale come altri brand comunque le fotocamere sa farle cioè si vede che ci mette della testa è così anche nel menu menu molto buono così come quello di Fuji insomma un prodotto che a nostro giudizio merita 7 non di più perché comunque le dimensioni un po' compromettono l'utilizzo della fotocamera l'ergonomia della fotocamera ergonomia abbastanza allineata e quindi non è eclatante anche per Fuji X-E4 devo dire che appena è stata presentata è stata la principale critica che ha ricevuto questa fotocamera la mancanza della ghiera posteriore il tasto Q per l'accesso al menu rapido messo in una posizione francamente un po' discutibile questa linea è estremamente squadrata tant'è che Fuji furbamente dico io ha inserito anche degli accessori per il pollice insomma per rendere l'impugnatura un pochino più comoda ovviamente se li fa pagare quindi sono tutti soldini che entrano quindi ha fatto bene comunque l'ergonomia non è male assolutamente è molto meno peggio di quanto alcuni possono o hanno scritto vedendo questa fotocamera ad ogni modo più di 7 ci sembrava non corretto dare come foto parliamo adesso uno degli ultimi fattori che alle volte spesso fanno pendere l'ago della bilancia anche se forse non è il caso di queste macchine ripeto sono macchine pensate l'articolo si basa per scegliere macchine pensate per la street ma anche per altro è la parte video cominciamo da Rico Rico essendo una macchina pura per street del video non gli importa proprio una cippa e quindi ha proprio un normalissimo antiquato preistorico scusatemi il termine full hd 1.9 per per milleottanza 60 30 eccetera per un tempo massimo standard di 25 minuti quindi noi abbiamo dato un 4 perché in effetti è proprio è sotto il minimo sindacale è vero la Rico è una macchina da street al 100% però non potevamo dar di più come votazione a livello video le altre tre macchine quindi le due Fuji e la LX100 Mark 2 sono piuttosto equilibrate prestazioni allora parliamo delle due Fuji in contemporanea l'X100V e l'X4 avendo lo stesso cuore hanno più o meno le stesse prestazioni video quindi avremo un 4K 30p avremo un full hd con le varie frequenze avremo un full hd in slow motion che in questo caso è 240 fotogrammi al secondo per l'X4 e 120 per l'X100V quindi avremo uno slow motion un po' più accentuato lo slow motion è quindi a ripresa diciamo rallentata per farvi un'idea io faccio una ripresa 240 fotogrammi al secondo poi quando la proietto la vedo a 24 vuol dire che è un rallentamento 240 diviso 24 sono 10 volti più rallentato proprio buttata lì ok mi sono lasciato andare un pizzico di teoria scusatemi la Lumix e l'X100 Mar 2 anche lei ha il nostro non onesto 4K 30p come minutaggi sulle tre macchine siamo lì in effetti quella X100V probabilmente scalda un po' di più e siamo sul quarto d'ora 20 minuti per i filmati tenete conto comunque che quando si fa un filmato non si fa 900 un film da tre ore non è che si riprende il video per tantissimo tempo magari si fa una ripresa di 3-4 minuti si stoppa la macchina si riprende quello che conta è che la macchina come sapete nelle ultime chiacchiere che si sentono sul web e i vari forum non si surriscalda quindi non è un problema di surriscaldamento è proprio una temporizzazione che viene data a livello software quindi non è un problema tanto di macchina che non ce la fa la Lumix LC e l'AX102 riesce a fare dei filmati un po' più lunghi a livello di sequenza continua probabilmente è dovuta anche alla struttura abbondante al sensore piccolo il micro 4 terzi super performante che è installato sulla macchina in più ha una funzione tipica di Panasonic che è una raffica 4K da cui puoi estrarre dei fotogrammi quindi una sorta di boost 4K per queste funzionalità abbiamo dato quindi un 7 alla Lumix LX100 per questa sommatoria di funzionalità video anche se ripeto mi dà molto molto fastidio che non ci sia una presa a microfono che va a castrare quelle che sono le performance video della macchina abbiamo dato un 6 alla X100V un 7 alla sorella maggiore alla sorella X4 proprio per uno slow motion più accentuato e per una lunghezza un po' più elevata dei filmati ma sono molto equilibrate molto simili a livello di qualità video Ok Roberto parliamo di un argomento importantissimo c'è il sistema fotografico qualcuno dirà ma che sistema che sono compatte anche tu c'è ragione se l'hai pensato però non è così per tutte e comunque qualcosa c'è da dire anche in questo caso allora cominciamo dal dire che ovviamente i voti per l'X100V e la Ricoh sono 5 qualcuno dice ammazza quando siete stati generosi nel senso che non c'è di fatto un sistema c'è un'ottica fissa e quella ti tieni però non è proprio così perché prima di tutto perché ci sono degli aggiuntivi ottici sia per l'una che per l'altra quindi volendo potete variare un po' la focale stringendola un pochino o allargandola un po' ma soprattutto perché in realtà sono focali soprattutto l'X100V che con le quali volendoci si può fare tutto se uno ha capacità di composizione può con 35 mm volendo anche con 28 mm puoi fare veramente tanto tanto per di più puoi comunque andare a croppare l'immagine grazie alle funzioni di cui parlavo prima cioè dal 28 nella Ricoh si passa al 35 al 50 mentre nella Fuji si passa dal 50 fino al 70 mm in versione croppata quindi volendo è come se aveste sostanzialmente un piccolo zoom tenendo conto che la definizione è ben maggiore ad esempio rispetto alla Lumix e l'X100V per cui diciamo abbiamo dato 5 per queste ragioni la versatilità delle lenti gli aggiuntivi ottici e poi per questo crop digitale virtuale che è presente in macchina la Lumix e l'X100V qualcuno dice vabbè potevate dare di più sì è vero potevamo dare di più però in realtà non è un'ottica intercambiabile è vero che è uno zoom che copre insomma il range di focale che è utile nel 90% dei casi è vero anche che si può mettere in modalità crop quindi si va praticamente si passa a un sensore da un pollice e si arriva fino a 150 mm se non ricordo male come crop ottico quindi reale e volendo si può fare anche un crop digitale nel senso viene interpolata praticamente l'immagine e si può arrivare fino a 300 mm adesso sto andando un po' a memoria un po' che non l'ho usata un po' di tempo fa però insomma c'è anche questa possibilità che va usata proprio in caso estremi è comunque limitata cioè è una compatta e come tale ti devi un po' adattare e per questo abbiamo dato 6 non potevamo non dare un voto alto invece per la Fuji X4 che a nostro giudizio rimane la fotocamera da preferire se uno dice ok io voglio fare prevalentemente street quindi mi serve una fotocamera piccola silenziosa veloce eccetera ma voglio anche magari zoom per godermi la vacanza con la famiglia oppure portarmi un piccolo tele per fare anche qualche foto a distanza insomma ti dà quella versatilità che le altre fotocamere inevitabilmente non possono darti per questa ragione abbiamo dato 8 anche perché il sistema fotografico di Fuji è un sistema di tutto riguardo per cui c'è veramente tanta roba e si trova anche tanto usato per cui si possono fare anche degli ottimi acquisti andiamo adesso su una specie di riepilogo che è il rapporto qualità prezzo perché abbiamo parlato di tutte le qualità l'autofocus qualità dell'immagine ergonomia qualità costruttiva tic e tic e tac però alla fine quando tu vai in negozio o il supermercato l'ordine sul web devi sganciare il money quindi queste macchine ti danno queste caratteristiche ma quanto ti costano? Dobbiamo dire io e Damiano pensiamo che ultimamente i costruttori stanno un po' esagerando stanno innalzando un po' troppi prezzi è vero periodo di covid quindi c'è c'è la magra anche per loro però abbiamo notato proprio questa tendenza innalzare sempre di più i prezzi con macchine che se ci pensate bene sono molto meno complesse rispetto alle reflex o alle macchine analogiche di antica memoria e quindi le votazioni abbiamo discusso un po' un po' relativamente sul voto da dare come rapporto qualità prezzo perché in effetti sono tutte bene o male care perché si parte dalla Ricco che costa 850 euro ragazzi fatta da Dio benissimo costruita bene un'ottica meravigliosa super compatta un taccoino da punti che potete portare sempre con voi però sono 850 euro ragazzi è una bella cifra 850 euro non dico che ci potevo comprare un corredo fino a qualche tempo fa ma quale ci sta abbia nata la sufficienza perché comunque è un prodotto estremamente valido estremamente godibile per il tipo di indirizzo che abbiamo pensato in questo articolo la X100B macchina eccellente è vero ha un mirino opto elettronico che è la fine del mondo ed è anche più caro a livello costruttivo rispetto a un semplice EVF perché c'è la parte meccanica ottica che vuole pretende più precisione materiali presati tropicalizzata ottimo sensore ottimo autofocus però sono 1350 euro è una macchina per appassionati ma non potremmo dargli un voto più alto abbiamo valutato abbiamo dato un 6 perché nonostante il prezzo molto alto che è equiparabile la macchina è già con un discreto corredo è compensato dalla raffinatezza del mirino e della raffinatezza generale della macchina che è una macchina quasi non dico elitaria però è una macchina che fa a sé è un piacere averla quindi è come dire invece di comprarmi non so la 500X mi faccio un piccolo regalo mi prendo che ne so un Mercedes classe A perché voglio essere voglio godere un po' di più avere questo mezzo in mano anche il fattore estetico e il fattore sensoriale è molto importante la Lumix LX102 macchina completa fatta bene ha tutto quasi tutto continuo a rimarcare che manca il microfono però sono sempre 750 euro per una compatta zoom compatta di delite una compatta di evoluta con un ottimo zoom con un buon sensore però è sempre un prezzo importante un prezzo molto alto con cui posso prendere senza voler tirare in ballo chissà cosa una OM10 MAR2 con un'ottica quindi con una macchina che potrebbe dare la possibilità di evolvere in futuro quindi è un prezzo importante un po' troppo elevato e abbiamo dato comunque la sufficienza l'XE4 macchina di cui abbiamo parlato nella sua presentazione è una macchina che oltre alla critica a livello di ergonomia come ha detto Damiano la critica più grossa è stato proprio il prezzo abbiamo dato un set di incoraggiamento perché è comunque una macchina che costa meno rispetto all'X100V cioè io prendo la macchina con il 2728 nuovo che hanno presentato insieme all'XE4 tropicalizzato con la gredia frammi la pago 1.050 1.100 euro quindi è proprio questo raffronto che abbiamo fatto rispetto all'X100V abbia dato un punto in più anche perché comunque è una macchina che è costruita bene però sono macchine tendenzialmente tutte e quattro un po' troppo care per come la pensiamo io e Damiano Allora come diceva Roberto adesso otterriamo un po' le somme e mostriamo i punteggi eccoli qua allora qualcuno dirà no mi immagino già i fan dell'Arico no non capito niente pollice verso mi vengo a trovare a casa insomma i soliti fanatismi in parte giustificati perché l'Arico Roberto è comunque un'ottima fotocamera che apparentemente ne esce sconfitta in maniera pesante ma in realtà bisogna comprendere tutti i fattori di cui abbiamo analizzato prima cioè secondo questa analisi ovviamente ne esce perdente dipende però cosa uno ne vuole fare e soprattutto qual è la priorità perché se per voi la priorità è la compattezza cioè la tascabilità l'Arico batte tutti ma di brutto perché è veramente l'unica fotocamera di questa serie ma dirò di più sul mercato togliendo ovviamente le compatte tipo l'RX100 e così via che sono sensori decisamente più piccoli è l'unica fotocamera PSC tascabile veramente pratica funzionale perfetta per lo street però insomma pecca da altri punti di vista sicuramente è una fotocamera come punto di forza che ha un'ottima qualità d'immagine a me piace veramente tanto tanto il file dell'Arico il DNG come il RAW è una fotocamera stabilizzata ha un bianco e nero da urlo e poi ripeto è perfetta per lo street insomma se tu vuoi una fotocamera da avere sempre con te a posto dello smartphone vuoi veramente una fotocamera da avere sempre con te questa è la scelta ti fregatene degli aspetti diciamo meno positivi ergonomia batteria che dura un pochino poco effettivamente questo è un handicap purtroppo non piacevole soprattutto per una fotocamera da avere sempre un po' con sé però insomma ha una fotocamera che merita veramente di essere presa in seria considerazione se hai quel tipo di esigenze la Lumix prende un poteggio più perché è una fotocamera più versatile è una fotocamera che anche a livello video fa sicuramente meglio 87 punti un voto a nostro giudizio corretto soprattutto perché le dimensioni comunque sono contenute non è tascabile come la Rico che la mette in tasca dei jeans per intenderci la Panasonic la puoi mettere in tasca di un giaccone insomma di un piumino o cose di questo tipo ma non è proprio attascabile ha un'ottima qualità d'immagine nonostante la dimensione del sensore è un po' più piccola ma comunque la qualità d'immagine è veramente molto buona anche in JPEG veramente ottimo lo zoom l'ottica è secondo il nostro punto di vista è il vero plus di questa fotocamera un'ottica bellissima fantastica anche riprese ravvicinate un bello sfocato insomma un'ottica che merita già per questa ragione merita l'acquisto della Lumix l'autofocus è molto buono non è il meglio che c'è in assoluto ma è molto buono molto molto reattiva molto scattante quindi una fotocamera che puoi fare alla grande il punto e scatta certo c'è il tema che tu quando apri devi uscire l'ottica e quindi c'è quel secondo insomma un po' di di ritardo di attesa ma comunque è un autofocus molto veloce insomma è una fotocamera adatta per lo street ma anche adatto per la famiglia per il viaggio così come la Ricoh è una fotocamera che è adatta per lo street sicuramente ma perché no anche per la famiglia e per il viaggio perché quando si viaggia e tu ce l'hai in tasca succede qualcosa boh ce l'hai lì e secondo me è uno degli aspetti più importanti di una fotocamera perché infine non conta la foto perfetta conta comunque fare la foto quando gli altri magari non la fanno perché devono tirare fuori la macchina dallo zaino che è sopra magari il portoggetti e quindi alla fine ciao core per cui questi sono due plus davvero importanti Roberto ti lascio a te il secondo e il primo podio a te l'onore allora sul podio primo e secondo posto due Fuji in effetti la differenza di punti è minima sono solo due punti l'X100V ha raccolto 91 punti le sue prerogative principali sono prima di tutto il fattore estetico che è un fattore secondo me che conta tanto nell'acquisto di una macchina ha un mirino veramente eccellente ragazzi dovreste provarlo almeno una volta avere la soddisfazione di vedere in questo mirino opto elettronico che ti dà una visione nuova di quello che è anzi nuova vecchia di quello che è la fotografia perché vedere in un mirino galileliano è una bellissima esperienza un autofocus estremamente prestazionale una qualità di immagine ai massimi livelli nel mondo APS-C ma che dà fastidio anche a certe full frame per quello che riguarda specialmente la gamma dinamica una macchina adatta quindi chiaramente alla street come era il fondamento di questo articolo ma anche al reportage alla foto di famiglia al viaggio quindi è una macchina eclettica indirizzata sì come filosofia proprio per come è fatta assomiglia alla laica la laica sapete è la macchina top la macchina storica per fare il reportage per fare lo street scusatemi e la Fuji tra virgolette la cimiotta parecchio sia come approccio sia come estetica e quindi la macchina che oltre a questo riesce a fare anche altre cose grazie all'eccellente qualità dell'obiettivo di cui è dotata l'X4 prende due punticini in più non tanto per la qualità dell'immagine che la stessa l'autofocus la stessa qualità è meno fascinosa però per la possibilità di avere le ottiche intercambiabili che ti danno la possibilità una volta che tu ti sei divertito magari con quel pancake 27 che vi dicevo prima 2.8 puoi poter magari ampliare il corredo ma le differenze poi di punteggio è veramente una cosa irrisoria quindi i primi due posti ma poi diciamo che a parte la ricco di cui parlava Damiano prima le altre tre contendenti sono piccole differenze di punteggio il che ci ha fatto capire perché non è che noi prima stiliamo la classifica e poi raccogliamo le idee noi si raccoglie le idee si danno i punti e poi si fa la classifica finale vuol dire che le macchine scelte sono macchine che sono molto equilibrate e la differenza tra l'una e l'altra a parte il prezzo d'acquisto che può essere diciamo un fattore pesante nella scelta come prestazioni avrete prestazioni piuttosto equilibrate a parte la ricco come ha detto Damiano che è la più strita la più piccola e la macchina più particolare ok ragazzi questa è stata una panoramica di queste quattro fotocamere in sostanza in soldoni mio giudizio cosa farei io se uno volesse il sistema ovviamente X4 è la scelta se uno vuole una macchina con un mirino ottico e elettronico vai sulla X100V che non è una cosa così scontata insomma trovarla se invece vuoi una compatta ma comunque l'ottica fissa ti sta un pochino stretta e vuoi giocare un po' anche con le focali quindi ripeto le focali più versantili perché arriva fino a 75 mm ovviamente l'X100 è un'ottima soluzione se invece vuoi la super compattezza vai con la ricco e non rimarrai assolutamente deluso questo è un po' il concetto e l'essenza qualcuno dirà e poi devi dircelo prima che se ci risparmiavamo un'ora di video e no il gusto era proprio questo farvi vedere tutto quanto il video ok allora dai ragazzi fateci sapere la vostra opinione soprattutto lasciate commenti se conoscete queste fotocamere e lo usate perché come diciamo negli altri video noi esprimiamo i nostri giudizi da prove pratiche recensioni eccetera alcune fotocamere le abbiamo magari possedute altre non in questa casa non in questa puntata ma a volte può capitare e quindi abbiamo un'esperienza più matura però molti di voi magari hanno una Lumix l'X100 la prima serie o la seconda serie possono esprimere dei giudizi ma anche dice attenzione guardate che c'è questo problema e così via quindi è un ripeto sono consigli acquisti mettetevi nei panni chi deve comprare quel prodotto gli può essere utile sapere la vostra esperienza quindi non siate pigri lasciate qualche commento che può essere utile ad altre persone detto questo ragazzi mettete un bel like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ci vediamo alla prossima puntata di consigli di acquisti ciao ragazzi ciao ragazzi